Eccoci qua, allora dovrebbe arrivare anche Giulia, Instagram ha avuto qualche, ecco, scusate, niente tranquilla, Instagram ha sempre qualche, perde sempre qualche pezzo, come va? Bene bene, tutto bene? Era un incontro, è finito tardi, chiedo scusa, ma ci sono. Tranquillissima. Non ti preoccupare, intanto vedo che sono collegate anche persone, quindi non è un problema. Esatto, anzi, 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 magari è l'orario in cui mano a mano appunto si finisce di lavorare o studiare e ci si collega, quindi va benissimo. Perfetto, benvenuta Giulia e grazie per la tua disponibilità. E abbiamo presentato poco fa il progetto Working Future e appunto abbiamo ricordato che oggi tu sei qua con noi, non come investe di campionessa, ma di ingegnere biomedicale o biomedico, lo chiediamo direttamente a te, biomedico, biomedico, perfetto, perfetto, appunto perché si stava parlando di competenze digitali e competenze green, insomma, all'interno del mio lavoro. E' benissimo che non andava alla diretta proprio come partire nei migliori dei modi. Sul pezzo, esatto, ma recupereremo, non ti preoccupare. E Giulia, ci parli appunto un po' di te, di cosa fai e di questo tuo percorso di studi. Allora sì, il mio percorso di studi è iniziato, non sapevo di preciso cosa fare io dopo la maturità e quindi mi è sempre piaciuto qualcosa di scientifico perché io e le materie umanistiche non andavo troppo d'accordo e quindi c'era un po' l'imbarazzo, più che l'imbarazzo proprio non sapevo cosa fare. Allora all'inizio mi era venuto l'idea comunque sì di fare qualcosa di scientifico, poi dopo medicina, medicina però erano troppi anni e quindi ho scoperto una mia amica che faceva ingegneria biomedica di cui non sapevo neanche l'esistenza di questa facoltà praticamente e niente, allora ho chiesto informazioni e da lì ho iniziato perché era un giusto compromesso insomma tra qualcosa di scientifico e la medicina, la parte medica ecco quindi mi è subito piaciuta. Infatti noi stavamo dicendo proprio adesso che ad esempio noi non conoscevamo questo percorso di studi, quindi come conoscere i percorsi di studio insomma non è semplice, quindi in questo caso tu dicevi hai conosciuto tramite il passaparola. Chiedeva una persona che scuola superiore hai fatto. Il Marconi a Parma, scientifico. Scientifico, quindi comunque tu avevi già fatto una scelta un po' in questo ambito. Assolutamente sì, 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 ho sempre stata dalla parte scientifica. Ok, proprio perché appunto noi non lo conosciamo e vorremmo farlo conoscere un pochino meglio come percorso. Che tipo di percorso professionale porta? Quindi che sbocchi professionali ha questo tipo di percorso? Cioè cosa fa un ingegnere biomedico? Eh, fa tante cose, nel senso che non è una cosa, come dire, unica. Ha tanti sbocchi, già solo le lauree specialistiche, sono cinque. Quindi dalla parte più clinica, quindi la parte più magari ospedaliera e di gestione, magari anche di un ospedale, dei macchinari, alla parte più biologica, di cellule, alla parte più di movimento. Quindi ci sono veramente, veramente tante, tante cose. Il bello di questa cosa è che è abbastanza flessibile. Cioè a me piace molto questa cosa qua. Ok. E in questo tuo percorso, in questo, diciamo, sì, percorso di studi e non solo, anche nel lavoro che andrai a svolgere, quanto sono importanti per te le competenze digitali legate appunto alla scienza. Beh, adesso va tutto nel digitale. Quindi direi che è abbastanza fondamentale e l'abbiamo visto anche soltanto con lockdown, che tutto era, tutto online, le riunioni, vedersi. Quindi direi che è una delle parti più ponderanti di questo momento, di questo periodo. Quindi ti chiedevo una cosa. Quindi diciamo che, da quello che ho capito, un po' quello che hai detto prima, può essere poi nel futuro, ecco, il tuo percorso anche di studi. Quindi la tua idea è quella un po' di, come si dice, proseguire poi successivamente. Quindi c'è una specializzazione ulteriore dopo questo percorso. Ci sono i tre, i tre più due come tutte le università. Ok. Ok, ok. E quindi sì, può essere più una parte legata più magari al macchinario e invece una legata più magari al lavoro in laboratorio. Quindi sì, anche. Ok. Diresti un aspetto, diciamo così, perché lo consiglieresti come percorso e perché non lo consiglieresti? Quindi un aspetto positivo e uno negativo. Ovviamente a seconda delle persone che possono essere interessate a questo tipo di percorso. No, secondo me è molto molto interessante perché, come dicevo prima, non è che puoi fare solo una cosa. Quindi ce ne sono veramente, veramente tantissimi, tanti progetti e quindi credo che sia un po' il ramo dove tutto il mondo, insomma, sta andando molto in questa direzione. Non lo consiglieresti, non saprei. Se uno non sa la matematica come me, che non so fare due più due, magari non andare a fare due più due, quindi è un po' in generale. Percorso di studi di ingegneria, ecco. Primi tre anni magari sono un po' molto generici, quello sì. Quindi uno dice faccio poco di biomedico, è vero. Poi dopo però, poi dopo no. Quindi forse questo può essere un aspetto un po' più negativo se uno se lo aspetta specifico dall'inizio. Tenere un attimo duro, ecco, i primi anni e per poi invece, insomma, fare qualcosa che ti interessa di più successivamente. E rispetto a questo percorso di studi, tu l'hai fatto a Milano, giusto? Sì. Parlando. A Parma non c'è, esatto, esatto. E c'è anche all'estero come percorso? Tu sai se ci sono magari differenze rispetto a… C'è all'estero. Ti dico, ci sono anche dei miei compagni di corso che hanno fatto la doppia laurea, quindi sono andati a Chicago, avevano avuto la possibilità, insomma, col Politecnico, di fare, sì, finire là oppure anche solo tesi all'estero, quindi di possibilità ce n'è tantissime. E chiedono dove fai l'università. Tu l'hai finita, giusto? No, io sto facendo la specialistica, esatto, ho finito la triennale e la sto facendo sempre a Milano. Adesso è abbastanza online, quindi… E quindi in questo momento la tua magistrale come si chiama, che tipo di percorso è? Eh, aspetta. Il magistrale non si chiede, no? Esatto, adesso mi viene in mente, dopo ci torna che mi viene in mente, in questo momento… Perfetto. Una domanda tra bocchette. Hai visto? Sì, no, io ho le definizioni precise. Comunque, al di là del nome, che tipo di percorso? Dalla parte più informatica. Informatica, ok. Perfetto. Quindi, cioè, abbiamo parlato di tanti sbocchi, no? Anche la tua, dicevi, parte da una triennale che può dare tanti sbocchi e tante opportunità. diversi, poi dipende dalle caratteristiche personali, dalle passioni anche dei ragazzi che intraprendono questo percorso. Quindi, mi viene anche da dire, lasciamo anche un messaggio un po' di speranza, no? Che a volte i giovani sono un po' più demoralizzati, no? A volte si dice, non c'è lavoro, che cosa farò da grande? Ecco, quindi, cosa vorresti… Dal momento che tu ti sei lanciato in un percorso di studi nuovo, legato a delle nuove competenze, delle nuove opportunità che si sono aperte, appunto, con nuovi mercati. Dico, che consigli vorresti dare anche ai giovani, no? Che a volte sono un po' impauriti, forse un po' persi. Che cosa vorresti dire? Cosa consiglieresti, ecco? Beh, forse è un po' anche di seguire le proprie passioni, perché non è sempre facile e quindi comunque uno non deve pensare troppo al dopo, ma a quello che sicuramente ti piace. Poi, una volta che intraprendi un percorso, c'è tutta la parte di metterci un po' del tuo, nel senso di avere un po' un obiettivo, magari anche solo portare idee, parlarne e quindi questo credo che serve, ecco, che possa essere d'aiuto e è tutto un po' in evoluzione, quindi anche uno può essere un'idea che può sembrare banale, ma magari poi sviluppata è una cosa comoda, credo che tutte le grandi comunque invenzioni nascono da delle necessità e quindi è quello che poi ti fa, non ti dico averla svolta, ma quasi. Assolutamente, quindi anche un po' il confronto magari. Sì, tantissimo. Credo che quello lì, ma in generale, proprio nella vita, serva tantissimo il confronto e magari anche unire le forze per poi arrivare a un obiettivo comune. Certamente. Decisamente. Chiedeva prima una persona, quindi Politecnico di Milano, dicevi. Politecnico di Milano, sì, sì, ok, 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 per una domanda confermiamo che è quello. E quindi tu, ultima domanda, tra bocchetto anche questa, non era… Falterà la connessione. Concordate. No, no, non fa saltare la connessione. Quindi tu nel futuro comunque ti vedi all'interno, ad esempio, lavorare comunque nell'ambito dell'ingegneria biomedica nell'ambito dell'informatica. Ma non lo so dove lavorerò io dopo, anche perché il bello delle specialistiche sinceramente che puoi scegliere un po' tutti gli esami che vuoi, quindi in generale ce li hanno molto simili, non è… sulla carta c'è scritto cos'è, però poi di fatto te la scegli un po' tu tutto il percorso. Ma il fatto, quello che farò dopo, in questo momento non te lo so dire, ecco, di preciso. Però quindi molto bello il fatto che uno se lo costruisca un po' il percorso, no? Quindi le cose le scegli mano a mano. Sì, sì, quello sì, molto molto bello. Direi molto importante. E anche di responsabilità, perché… Assolutamente sì. Non è facile scegliere. No. Poi più libertà hai, più è difficile scegliere. Esatto, però avere la scelta è sempre importante. Assolutamente. Esatto, quindi quello è… bene. Vediamo se ci sono anche delle domande in diretta. Altre domande? Potete scriverci in chat. Sì, infatti. Nessuna domanda, quindi sono state chiarissime. Rimarrà il punto interrogativo. Adesso Giulia è anche… guarda, per la saltar prima la connessione non si è salvata. Lei sperava che andasse via prima, invece è andata via adesso. Invece no, è andata via adesso. Perfetto, quindi aspettiamo un attimino, così la salutiamo e la ringraziamo. Niente. No, niente. Aspetta, beh, e guardo se… forse aveva richiesto ancora di entrare. Vedi questo Instagram? Ah, c'era una domanda, vero? Ecco, Giulia. Niente, va così. Le competenze digitali vanno così. Allora, abbiamo una domanda come coniughi studio e sport. Questa è difficile, secondo me. Allora, sono stata abituata a farlo, diciamo, fin dall'elementare, quindi ho sempre fatto tutte e due. All'inizio, mi ricordo, l'elementare c'era quando avevo, non so, l'ora di ginnastica dovevo andare a fare allenamento, avevo un'ora o poco tempo per fare i compiti e li finivo subito. Quando era il giorno in cui avevo più tempo, ci mettevo proprio tutto il giorno e mi riducevo sempre all'ultimo a farli. Quindi, lo sport mi ha sempre aiutato anche come organizzazione. Sicuramente più vai avanti, più magari con l'università è stato un po' più difficile perché le gare erano magari sempre nel periodo degli esami, quindi c'era un attimo più di difficoltà o magari anche a seguire le lezioni. Diciamo che con la scuola era più semplice, magari uno pensa il contrario di solito e forse anche perché si è alzato comunque il mio livello di sport e quindi poi dopo anche col Politecnico era saltata fuori questo problema esami, allenamenti e ne avevo parlato. E grazie anche al vicerettore che tra l'altro è di Parma, abbiamo fatto insieme, insomma è nato il progetto di Dual Career che così dava la possibilità a tutti gli atleti di magari poter fare gli esami fuori appello e quindi dare una mano nella direzione della logistica. Quindi hai cambiato in qualche modo anche l'università. Abbiamo fatto un progetto, quello sì. È come prima che nascono le cose dalle esigenze e quindi così è nato. Esatto. E dal percorso, quindi magari non farsi spaventare da un percorso magari che si pensa difficile perché magari intraprendendolo poi possono essere delle opportunità che non si pensavano. Certo. E anche il fatto di comunque di portare il proprio contributo perché è stato comunque sollevato, non dico un problema, ma comunque una necessità e comunque in modo da dare anche poi in futuro ad altri la possibilità di coniugare sport e studio. Certo. Ottimo. Perfetto. Bene. Grazie. Giulia, noi vogliamo mantenerti oltre. Grazie tantissimo. Insomma, per la tua partecipazione e grazie davvero. Grazie, grazie. Ciao. E noi ricordiamo, ciao Giulia, grazie. E noi ricordiamo la prossima diretta con Nicola Lamberti sulle competenze green che sarà giovedì 9, giusto? Sì, a mezzogiorno. A mezzogiorno e 30. Comunque orario di pranzo. Esattamente. Va bene. Grazie a tutti. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao.